Intercapellini, oppure piombo, oppure non viene più usato? Per questo vi consiglio, insomma, di guardare, c'è un sito web, un produttore di materiali molto interessante, si chiama Acustica Integrale, voi avete dato un'occhiata al sito, acusticaintegrale.com comunque ci sono diversi materiali a seconda delle esigenze, quindi sicuramente la tecnica che è la più usata è quella di cartongesso, fibra, cartongesso, parete resistente, materiale, ovviamente può essere cartonale, può essere un composto, che al fine è tipo piombo, alla vista, però sono composti da più materiali che non occupano molto spazio, poi un altro strato di cartongesso, a seconda del tipo di intervento. Il grado anche di suonamento puoi ottenere. Si, si parte sempre, quasi sempre, da un pavimento flottante, anche se è un pavimento flottante, perché il cileno è un pavimento flottante già di isola, dà possibili vibrazioni sulla struttura esistente, e poi sul pavimento flottante vai a costruire, appoggiare, anche se è un pavimento flottante perimetrali, e dopo, come ultima fase, vai a posizionare il soffitto. Quindi crei praticamente questa stanza dentro la stanza. Logicamente è inutile che tu isoli alla perfezione se poi rimetti una porta di legno, perché la parte più debole è sempre quella dove passerà comunque sia il suono, e quindi anche lì, se c'è una finestra deve essere una finestra con caratteristiche acustiche certificate, che per quanto riguarda la porta ha lo stesso discorso. Quindi non puoi tenere te nella tua catena un aerotepo, certo, come nell'autimo, insomma. Esatto. C'è un'altra parte, anche in un'altra cosa, la posa in opera di Sano, no? Si. Puoi avere la certificazione, soltanto è il suo prodotto, che è costitissimo al laboratorio, con un montaggio fatto in un certo modo, ovviamente questo prodotto, la installazione la fa in modo diverso, male o, si può non dire male, però poi non appena lo stesso in Italia, sì. Quindi, nonostante il prodotto sia certificato, l'installazione è una fase cruciale per l'isolamento. Te puoi avere una porta che pesa 150 kg, che ti isola a 50 decibel, e poi il resto delle valine... Se la installi male, la certificazione non esiste sulla porta, ma non sull'installazione, quindi diciamo che le aziende, tipo la nostra, che si occupano di restauratori, sono abituati a fare questo tipo di lavoro. Non è il classico miglioratore delle tecniche. Sì, sì, sì. Grazie. Grazie.